Leonardo del Vecchio ha sempre guardato oltre e lo ha fatto anche quando sapeva che se ne sarebbe dovuto andare. L'impero è stato diviso in otto parti uguali tra moglie e figli. Nel suo testamento, aperto presso lo studio Zabban Notare di Milano, il Tycoon dell'occhiale ha infatti definito la composizione dell'azionariato di Delphin, la cassaforte lussemburghese del gruppo che detiene il 32% di Essilo Luzottica, il 26% del polo immobiliare Covivio, il 19,2% di Mediobanca e il 9,82% di Generali. Alla moglie Nicoletta Zampillo non ha lasciato però tutta la sua quota, pari al 25%, ma ha ripartito la stessa metà lasciando nell'altra parte a Rocco Basilico, 33 anni, il figlio da lei avuto con il primo marito. Gli altri 12,5% sono andati a Claudio Del Vecchio, Marisa Del Vecchio, Paola Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio, Luca Del Vecchio e Clemente Del Vecchio. Era già noto invece quale sarebbe stato l'assetto della governance di Delphin, già previsto dal fondatore di Luxottica, nelle norme statutari della holding. È infatti tracciato un percorso in cui entrerà in CDA il primo del gruppo degli osservatori, ossia i manager di fiducia, a disposizione per incarichi al vertice, già designati dall'imprenditore scomparso che di Delphin era presidente. Il nome non è ancora noto, ma si pensa possa trattarsi di Francesco Milleri, amministratore delegato di Essilor Luxottica, che ha già preso il posto di Del Vecchio alla presidenza del gruppo di lenti d'occhiari. Il board di Delphin poi potrà eleggere un presidente tra i propri membri. Attualmente nel consiglio dei holding siedono l'amministratore delegato Romulo Bardin, il notaio Mario Notari, Alois May e Giovanni Giallombardo. Del Vecchio avrebbe stabilito che la famiglia resti fuori dalla vita delle aziende, limitandosi al ruolo di azionista. Un manager lo può sempre licenziare, anche se costa caro, un figlio no, era infatti uno dei suoi motti.